La fotografia di stock e di microstock può sembrare un metodo facile e divertente per guadagnare qualche soldino extra, ottenere una sorta di secondo stipendio e generare quella che oggi viene definita rendita passiva. Se questi temi ti interessano io ti consiglio innanzitutto di iscriverti a questo canale e di lasciare un like a questo video, vai sul canale a recuperare i video che ho già realizzato su questo argomento perché ti spiego quella che è la mia esperienza nel mondo del microstock e quali sono secondo me le strategie migliori per cercare di essere efficienti quando ci si muove in questo non facile mercato. Ti consiglio inoltre di seguire questo video fino alla fine perché oggi andremo a vedere quelli che sono alcuni dei generi fotografici che vengono maggiormente richiesti in questo periodo dell'anno. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi parliamo ancora una volta di fotografia di stock e di microstock e lo facciamo andando a recuperare una mailing list che mi arriva ogni mese con l'elenco delle fotografie più ricercate che si prevede che saranno le fotografie più ricercate del mese innanzi a noi. Per cui nel momento in cui io registro questo video vi vado a leggere quelle che saranno probabilmente le previsioni delle fotografie più ricercate nel mese successivo. Per ovvi motivi non vi posso dire esattamente da dove arriva questa mailing list, se siete contributor di piattaforme di microstock arriveranno delle mail di questo tipo anche a voi, però non posso divulgare proprio tutto a questo riguardo per cui se vi interessa saperne di più potete seguire il mio canale oppure potete andare direttamente sulle piattaforme di microstock, iscrivervi, l'iscrizione è gratuita, non costa niente e a quel punto vi arriveranno le mailing list con tutti questi suggerimenti. Faccio una doverosa premessa, questi suggerimenti vengono dalle piattaforme di microstock, quindi le piattaforme fanno delle previsioni di quello che secondo loro verrà venduto nel mese successivo. Queste previsioni possono essere corrette, possono basarsi sulle vendite dell'anno precedente, possono basarsi su dei trend stagionali per esempio, possono anche essere completamente sbagliate o possono semplicemente riflettere quello che è il desiderio della piattaforma. Vi faccio un esempio su tutti, le piattaforme di microstock tutte sono ormai anni credo che ci bombardano di newsletter dicendo che vogliono contenuti che mostrano la diversità, contenuti che mostrano l'inclusività, contenuti che mostrano la parità, sono tutte tematiche ovviamente attuali. La piattaforma ci sta dicendo che vuole questi contenuti, non ci sta dicendo che questi contenuti venderanno di sicuro, quindi non facciamo l'errore di pensare che solo perché produciamo un contenuto verrà venduto automaticamente, perché dipende da mille fattori. Andiamo però con ordine con le fotografie più richieste a dicembre, tralasciamo le fotografie stagionali riguardanti il Natale perché quelle è ovvio, quelle vengono stravendute tutti gli anni, però sono pochi contributor che hanno realizzato gli scatti migliori, ormai sono decadi che vengono vendute sempre le stesse immagini, è difficilissimo andare a soppiantare quelli che sono comunque dei classici che vengono sempre venduti e verranno sempre venduti come la famiglia intorno all'albero di Natale. Quelle sono fotografie che possiamo fare ma su cui francamente non mi impianterei troppo perché è difficile vendere quel tipo di foto, c'è tantissima concorrenza, quindi andiamo a vedere invece una di queste piattaforme che cosa ci consiglia. Primo consiglio, e traduco in tempo reale dall'inglese, invecchiare in modo giovanile. Per cui qui vado a vedere nel brief che abbiamo la richiesta di fotografie di persone non più giovanissime, non più nel fiore degli anni, quindi traduciamo dai 50-55 in su, quindi abbiamo appunto i ritratti di queste persone non più giovanissime, però catturati durante attività che siamo soliti associare a un'età molto più giovane. Per cui questo si intende per invecchiare bene, la piattaforma sta chiedendo immagini di persone non vecchie, però comunque non giovanissime che comunque si tengono in forma, fanno sport, fanno attività all'aperto, vedono amici, vedono persone, immagini di questo tipo che non è facilissimo realizzare. Ora, io vi do un consiglio su tutti per realizzare questo tipo di immagine, cominciate con i vostri amici e familiari, è la cosa più semplice. Secondo me nel momento in cui andate a trovare una zia non più nel fiore degli anni, sarà lei stessa contenta di aiutarvi a realizzare questo tipo di shooting, quindi le chiedete di ovviamente una zia che sia in salute, perché non possiamo una zia in sedia a rotelle farle fare delle cose sportive, delle cose di questo tipo, quindi dobbiamo anche ragionarci un attimo prima di andare da una persona con dei disagi e proporle cose di questo tipo, questo è ovvio. Però se abbiamo dei parenti o degli amici comunque che rientrano nel target di età e a cui possiamo proporre di posare per noi, sapendo ovviamente, conoscendo queste persone, sapendo che non le mettiamo a disagio con la nostra richiesta, questo è probabilmente il modo migliore per cominciare. Vi dico questo perché andatevi a recuperare uno dei miei video precedenti in cui vi parlo appunto di microstock, una delle regole auree del microstock è che bisognerebbe cercare di realizzare questi tipi di lavoro a costo zero, per il semplice fatto che non sappiamo quanto ricaveremo dalle foto che facciamo. Per cui io vi potrei anche dire, volete realizzare delle fotografie con delle persone di 65 anni? Andate a prendervi dei modelli, delle modelle di 65 anni, gli date un sacco di soldi perché comunque vi chiederanno dei soldi per lo sfruttamento della loro immagine e a quel punto vi ritrovate con uno shooting che vi è costato magari complessivamente, butto lì, 300 euro e non sapete quando riavrete quei soldi, non saprete nemmeno se li riavrete e anzi vi dico una cosa, con le attuali parcelle del mercato di microstock è molto probabile che da una cifra del genere non rientriate più per diversi anni. Per questo motivo vi dico di puntare prima di tutto su amici e parenti perché in questo modo andate a realizzare uno shooting a costo zero nel senso che l'unico costo sarà il vostro tempo e la vostra strumentazione che però se siete interessati al microstock probabilmente avete già. Ovviamente è molto difficile realizzare uno shooting di questo tipo soprattutto con persone che non sono capaci, quindi bisogna anche vedere che tipo di immagini verranno fuori, bisogna farsi firmare la liberatoria per cui queste sono tutte cose da tenere a mente, pensiamo prima agli scatti che vogliamo realizzare, parliamone con le persone interessate, vediamo se troviamo terreno fertile da parte loro a quel punto, gli facciamo firmare la liberatoria, realizziamo il nostro shooting e vediamo come va. Se il nostro shooting vende tantissimo l'anno dopo possiamo pensare di realizzarne un secondo magari con dei modelli che a quel punto paghiamo. Però io vi sconsiglio di partire subito dando dei soldi a dei modelli non perché non li valgano, i modelli valgono ogni centesimo, ma noi non sappiamo se quei soldi ci rientrano, non sappiamo se le nostre foto vengono bene, magari non siamo professionisti, magari non sappiamo benissimo cosa stiamo facendo, quindi è meglio partire soft. Secondo consiglio direttamente dalla newsletter, il benessere mentale. Ora lo so che questo vuol dire tutto e niente, nel brief vi posso solo dire che si vedono due persone che si abbracciano e c'è il primo piano su una delle due persone che sorride, quindi questo senso di serenità. Sicuramente nel brief leggendolo bene si evince meglio quello che vuole essere il concetto, ovvero dopo questi anni un po' tribolati, quindi dopo pandemie, guerre, anzi durante perché non sono mica finite, in questo mondo non piacevolissimo in cui ci troviamo si è riscoperta l'importanza della salute mentale, dell'equilibrio, per cui questo brief vuole puntare proprio su questo. Ce ne sono già tante di immagini di questo tipo, però ognuno di noi può dare la propria lettura di questo tema e quindi si può andare a cercare di realizzare delle immagini in cui si evinca che ci vuole essere un equilibrio, si evinca, che si va alla ricerca del benessere. Questo può essere fatto in tanti modi. A me vengono in mente le relazioni e quindi magari l'abbraccio come nel brief, ma anche tanti piccoli accorgimenti per stare bene con noi stessi, quindi magari prendersi cura di noi stessi, prendersi del tempo per noi stessi. Questa è una cosa che vale tanto nella vita quanto per realizzare queste foto ovviamente. Quindi ovviamente nessuna idea va scartata, ma vi faccio per dire il feng shui, la cucina, le passeggiate all'aperto, sono tutte cose che secondo me possono essere ricondotte un po' a questo macro tema della salute mentale, oltre ovviamente alle sedute dallo psicologo, ma bisogna dargli una lettura nuova perché di foto di pazienti sul lettino ce n'è a bizzefio, quindi non possiamo fare quella e sperare che finisca in questa categoria. Bisogna dare una lettura nuova. Ora io non vi posso dire quale sia questa lettura perché ognuno di noi ne darebbe una diversa ed è proprio questo il bello del microstock che questa grandissima collezione va a essere completata dalla visione di ciascuno, per cui buona fortuna e anzi vi aspetto nei commenti se avete qualche suggerimento da darmi perché io non so se andrò a seguire qualcuno di questi brief, non lo so ancora, quindi ve li segnalo, non so se li rincorrerò a mia volta. Parliamone nei commenti, diamoci qualche idea a vicenda, vi aspetto giù. Proseguiamo con il brief e una cosa molto interessante che vedo è che si parla di video questa volta e il video in questione è un timelapse. Io vedo nel brief che c'è un timelapse, ma non è obbligatorio che si parli per forza di timelapse, però viene molto spontaneo vederla con questa chiave. Il video in questione riguarda i cambiamenti in casa, per cui in particolare si vede nel brief che ci sono delle persone che, sapete, è un timelapse, quindi le persone si muovono velocissime e spostano i mobili, aggiustano un quadro, mettono le tende nuove, spostano una sedia, quindi cambiamenti in casa. Mettete una fotocamera o videocamera da qualche parte e realizzate il vostro timelapse o il vostro filmato intero, però sulla maggior parte delle piattaforme di stock c'è un limite di durata che è abbastanza severo, che di solito è intorno ai 30 secondi, quindi se stiamo spostando i mobili per la casa ci mettiamo magari 15 minuti, non possiamo mettere su un video di 15 minuti e lì scatta il timelapse. Si fa un timelapse con un'acquisizione che dura 15 minuti e poi il nostro video diventa di pochi secondi e lo possiamo caricare così. Vi lascio in card un altro video in cui ho parlato di come si realizzano i timelapse, in particolare con Canon EOS R5 che ho utilizzato per realizzare timelapse. Il procedimento è simile con la maggior parte delle fotocamere e videocamere e andatevelo a recuperare se vi interessa. Ovviamente questa è una tipologia di contenuto abbastanza semplice da realizzare, se stiamo arredando o riarredando un appartamento è sufficiente mettere una fotocamera da qualche parte, riprendiamo la nostra scena, c'è bisogno della liberatoria perché le persone comunque sono visibili e riconoscibili in ripresa di questo tipo, ma probabilmente saremo noi stessi in ripresa, per cui diciamo che il problema non si pone anche se vi ricordo che è necessaria la liberatoria anche se la persona ritratta è lo stesso fotografo che realizza la ripresa, quindi è seccante, però dobbiamo caricare comunque una liberatoria. Sempre parlando di interni, questa è l'ultima voce del brief che mi fa molto sorridere, case in disordine. Ebbene sì, dopo anni, e traduco istantaneamente dall'inglese dal brief, dopo anni e anni che ci siamo abituati a vedere le dimore più fantastiche, radiose, meravigliose, tutte super pulite, in ordine arredate da un architetto, adesso i clienti di queste piattaforme di microstock sono alla ricerca, pare siano alla ricerca, di case in disordine, case vere, perché le case da copertina che vediamo sui siti di microstock sono palesemente non finte, però sono inscenate. E ve lo dico da fotografo di interni, quando io vado a fare delle foto di interni la casa viene riordinata in maniera maniacale, non è così quella casa. La casa non è vissuta in questa maniera, in questo modo la casa è pulita, asettica e pronta per essere venduta su microstock o affittata su Airbnb, quindi non è quello che viene richiesto. Le case super pulite, super in ordine ci sono già, è inutile caricarne altre perché ce n'è già a bizzeffe. Quello invece che viene richiesto sono delle case in disordine, quindi magari anche qui un po' di testa, non è necessario lasciare i piatti nel lavandino per 20 giorni, non è necessario avere i topi in casa, però delle case normali in disordine, quindi delle case magari con il letto di spatto, delle case magari con un divano in disordine, delle case con i piatti della cena lasciati sul tavolo, ripeto non per tre giorni, è sufficiente cenare, si fa la foto e poi si riordina, anche qui sta anche a noi. Ovviamente non deve essere una casa sciatta, deve semplicemente dare un aspetto vissuto e dovrebbe anche essere una cosa divertente perché qui si entra nel vissuto di ognuno e ognuno farà vedere uno spaccato della propria inevitabilmente vita, perché io non posso andare a bussare nelle case delle persone e dirgli se posso fotografargli la tavola in disordine, quindi lo faremo per forza a casa nostra o a casa di amici e parenti compiacenti che ce lo lasciano fare. Dovrebbe essere una cosa anche abbastanza divertente e questa veramente è a costo zerissimo, quindi questa vi invito veramente a provarci, io stesso questa credo che ci proverò perché è facilissimo, basta essere un minimo disordinati e la foto viene da sé. A questo punto io vi chiedo come sempre, siete nel mondo del microstock oppure siete solo interessati e siete capitati per caso sul mio video? Lasciatemelo sapere in un commento, vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché ci saranno aggiornamenti su questo tema, fatemi delle domande se avete delle curiosità così cercherò di rispondere a tutti quanti nei commenti e i commenti che toccano argomenti più vasti ovviamente otterranno probabilmente anche una risposta video. Amici per il momento è tutto e io vi a tutti. Grazie. 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 Grazie.